Oggi dobbiamo scrivere una dinamica familiare da cui poi ne deriverà una storia con un tema che stabiliremo insieme a gruppi. Il problema delle scelgiature è che ogni strada ha un significato diverso e può essere o più giusto o più interessante o meno. E' bello e stimolante perché siamo tutte persone molto diverse con una visione molto diversa quindi questo ci aiuta ad essere più aperti anche nell'accogliere le opinioni degli altri e allo stesso tempo a trovare un punto in comune in cui leggo diciamo personale non prevalichi sull'altro. Quindi quasi a piano di scelte soggettive non ci sono delle regole, l'unica cosa che ti guida è quello che più mi piace, che più mi interessa raccontare e deve essere preciso, potente e preciso.